Susanna Cutini, buongiorno, docente Cultura e Politica Alimentaria dell'Università San Raffaele di Roma. Da quanto tempo sono sulle nostre tavole le vongole? Le vongole, io vi faccio vedere, questo è uno strumento tanto amato dai bambini adesso, perché quando vanno al mare con i nonni la mattina presto che fanno le passeggiate per raccogliere le conchiglie, e questo retino viene riempito, io l'ho già riempito stamattina di vongole, e era uno strumento già che veniva usato ovviamente in un modo molto arcaico, era costruito in una maniera molto differente da queste, già in epoca antico-romana. Quindi raccogliere vongole, portarle poi in tavola è un metodo antichissimo e di conseguenza ci accompagna perché questi frutti di mare sono veramente unici nella loro semplicità, ma che presenti da sempre perché l'uomo, si sa, nasce anche pescatore. Capisco che Marzullo è nell'aria. È nata prima la ricetta della pasta con le vongole in bianco o col pomodoro Cutini? Senz'altro è nata quella in bianco, perché fondamentalmente il pomodoro accede nella cucina a fine Ottocento, ma c'è un elemento anche da mettere in evidenza, nasce nelle aree di mare, ma nasce in quei luoghi dove la pasta alimentare ha fatto breccia prima, quindi io penso il suo utilizzo, penso alla zona di Napoli, penso alla zona di Genova, penso alla Sicilia, dove l'utilizzo della pasta e la produzione della pasta è stata veramente un unico, pensiamo anche a Gragnano, voglio dire che è conosciuta in tutto il mondo per la produzione di pasta, di semola, di grano duro. Esatto. Voi a quale scuola di pensiero appartenete? Chiedo anche alla Cutini, che prima sgusciate tutte quante le vongole e poi mangiate gli spaghetti che nel frattempo si sono freddati, oppure mangiate gli spaghetti e contemporaneamente la vongola? Benassi? Io le sguscio in parte per mangiarle insieme agli spaghetti. Peppe, io le sguscio mezzo guscio, perché sono più per una cucina di sostanza che di volume, perché se mangi di volume non porti sostanza. Questo me lo gacci via. Cutini? Guardi, io preferisco averle così nel piatto, prendere un po' di pasta, poi ogni tanto portarmi alla bocca la vongola, perché è un atto veramente... Oggi stiamo perdendo il tatto, stiamo perdendo quel modo di mangiare anche con le mani, nelle cosiddette posate del re, e di conseguenza portarle alla bocca è un modo anche di mangiare in un modo diverso che solo con la forchetta. Però mi raccomando, niente di succhio. Grazie. E il vino? Rosato o bianco, Peppe? Bianco. Bianco. Un fiano d'avellino. Va bene. Tanto paghi tu, qual è il problema? Grazie ai nostri ospiti.